Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video ma soprattutto un benvenuto a tutti i nuovi iscritti allora se mi vedete con lo stesso look dell'ultimo video è perché semplicemente ne ho registrati due di seguito quello che ci tenevo a farvi vedere nel video che poi mi sono persa in chiacchiere per altre robe oltre ovviamente al cambio di look che ho fatto e tutto era questo perché poi ho abbinato diciamo questo make up così che ricorda un po il mare con questo top che io ritrovo molto molto bello mi sa molto di male vedete con tutto questo ed è tutto ricamato a mano ma soprattutto questo top è di un'importanza inaudita perché praticamente era di mia madre e quindi ci tengo in modo particolare guardate tutti i dettagli se li faccio vedere meglio qui è tutto fatto così e qui poi va a finire così fin tutto dietro è molto particolare e mi piace un botto poi ho abbinato questo look un po così con questi orecchini della Immorellato che mi ha regalato tanti anni fa anche questi sembrano nuovi ma ce l'ho da tanto tempo una mia cara zia che sta a Torino che saluto se stai vedendo questo video ti mando un bacio cioè mando un bacio a te e tutta la la famiglia ovviamente a zio a zio e i miei cuginetti che stanno a Torino praticamente quindi ho abbinato mi piacciono un sacco li ho utilizzati tantissimo e poi di qui ho questa questa collana che mi vedete sempre me la fecerò alla crescima diciamo il fratello con la moglie diciamo il fratello di il gemello di mia mamma invece qui la sorella di mia mamma sì lo so magari a tanti non può fregare però sono diciamo ci tengo tanto a queste non sono gioiellini così ci tengo veramente tanto e sono bellissimi tra l'altro questo ha anche il bracciale però se volete un video riguardo alla mia collezione di gioiellini e bijoux fatemelo sapere qui sotto nei commenti e magari facciamo anche quello e vi mostro appunto tutta la mia collezione di orecchini, bracciali e collane che veramente non è che ne sono tantissimi però se magari vi interessa ve li faccio vedere e poi vabbè indosso questi braccialetti che sono quelli dell'ultimo video insieme all'altro paio che vi ricordo sempre mi sono dimenticata anche che l'altro video di ridirvelo vi ricordo sempre che il marchio è Leo Mazzotti da qui non si fiede, fanno riflesso è Leo Mazzotti, magari vi lascio anche qui il link al sito e inserendo il mio nome Instagram che è filomakeup94 quando effettuate l'ordine ricevete il 10% di sconto appunto sul vostro ordine comunque iniziamo con il video oggi andiamo con lo spacchettamento di un ordine di Yves Rocher che mi è stato fatto questo non è un grande ordine effettivamente però ci tenevo comunque a farvelo vedere ed ecco qui non si rivede niente volete vedere? vogliamo vedere che cosa c'è? lo vediamo insieme ho detto è proprio piccolissimo spero veramente che ci sia tutto piccolissimo quest'ordine quindi vedete vediamo se riesco a farvi vedere è proprio piccolo un ordine tipo di 56 euro totale da lì allora vi mostro subito cosa appunto mi è stato ordinato era questa in offerta se non erro appunto con album 9 la Sebo Vegetal il gel crema idratante mattificante c'è il gel crema zero difetti con polvere di tè boreale per quelli di miste a grasse quindi questo che non ve lo sto ad aprire perché appunto è per una cliente che ho voluto controllare sì effettivamente c'è mi hanno mi hanno ordinato due appunto trattamenti in gel abbiamo il fondotinta anche questo era un'offerta il fondotinta lo zero difetti comfort in colorazione questo lo 6300 sempre che mi hanno ordinato poi la crema mani che questa comunque era tra le se non erro sì era fino a esaurimento scorte sia questa e sia questa che comunque la stesso questa qui è la Purcal 1000 ed è quella il vasetto diciamo la crema idratante per viso e corpo e décolleté questa era anche in offerta a 5,95 euro un vasetto se non erro un vasetto appunto da 125 ml quindi molto conveniente no aspettate allora praticamente la crema mani era in offerta a 3,95 euro e questa sì a 5,95 euro c'è tutto questo questo era in offerta a 10,95 euro dal prezzo che costa sui 15 euro e queste erano in offerta a a 5,95 euro poi praticamente mi hanno ordinato il gommage vegetale anche e questo è sfogliante per tutti i tipi di pelle appunto questo è per il corpo e poi l'unica cosa che ho preso per me praticamente quindi lo posso aprire è il siero della Hydra Vegetal perché questa linea diciamo mi piace un sacco comunque eccolo qui questo siero qui poi lo proveremo il pack è molto carino bello in vetro e praticamente è da questo l'ho pagato sui 12,95 euro e questo è da 30 ml la consistenza adesso vediamo così bella gelatinosa ecco si vede adesso ci mettiamo le mani il profumo classico appunto di questa linea rimane è proprio bello che idrata quindi fantastico non vedo l'ora appunto di provarlo così completo tutta la linea una delle buste che loro mandano e poi questo è l'album 10 che ci sono comunque molte novità magari vi farò il video appunto dell'album e vi mostro direttamente le promozioni che ci sono e se nel caso comunque vi interessa qualcosa potete comunque contattarmi vi lascio i miei contatti e si sente in privato e vi faccio arrivare ciò che vi serve e comunque sono prodotti la Yves Rocher io sono cliente da anni mi sono sempre trovata bene non mi ha mai deluso soprattutto per i prodotti di skin care di tutto veramente sono prodotti naturali e veramente ottimi e validi se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollice in su iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e mi raccomando attivate la campanella per ricevere le notifiche di quando escono i nuovi video e io vi mando un bel bacio grande grande e ci vediamo al prossimo video ciao